C'è il sole, speriamo che ci accompagni per tutto il giorno. Oggi abbiamo un bel impegno con i colleghi Mauro Bellodi e Giovanni Capone. Abbiamo a catalogo 35 continentali italiani per questo attesissimo derby. Qua a La Tollara i terreni sono molto belli. In questo momento non ci siamo nelle condizioni migliori perché i cani possano esprimersi, perché c'è poca ventilazione e il terreno molto bagnato. Speriamo che nella prosiegua della giornata le condizioni migliorino. Comunque noi come è doveroso fare in un derby dobbiamo esaminare questi giovani soggetti che la maggior parte sono dei debuttanti, valutarne le qualità naturali. Saremo lunganimi nel considerare eventuali pecche nell'addestramento. Però è importante che questi soggetti dimostrino di sapere interpretare giustamente la nota del concorso, che è quella della caccia a starne. Quindi intraprendenza, fantasia, capacità nello sfruttamento del vento e non ultime le qualità specifiche delle due razze che oggi vedremo, bracchi e spinoni italiani. Siamo in terra piemontese, si parte avanti Savoia. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.